Ciao e bentornato, sono Matteo Pitaluga come sempre e in questo video voglio farti vedere come creare un blog letteralmente in meno di 5 minuti, anzi meno di 3 minuti, d'accordo? Per fare questo ti porterò su una piattaforma di blogging molto conosciuta che si chiama Blogger, d'accordo? Questo qui è il sito web blogger.com e qui ti farò vedere come entrare, creare un blog e subito dopo aver visto questo video sarai già in grado di copiare i tuoi link su The Advert Platform e incollarli nel tuo blog e quindi partecipare al 100% della divisione dei profitti Su blogger.com non c'è nemmeno bisogno di registrarsi se hai un account Gmail, va bene? Quindi se hai un email con Gmail non c'è nemmeno bisogno di registrarsi, se invece non hai un account Google basta che scrivi Gmail qua vai, andiamo qui su Gmail di Google e ti apri un account qui con loro, d'accordo? Ti fai un email con Gmail. Se ce l'hai già invece basta che clicchi, ti chiederà di fare accesso e ti trovi subito dopo in questa schermata quindi metti la tua email, la tua password e fai accesso. Andiamo qui su crea nuovo blog, va bene? E' facilissimo, basta veramente inserire il titolo del blog che vogliamo, ad esempio metto il blog di Matteo, va bene? E come indirizzo metti quello che vuoi che sia l'indirizzo del tuo blog, ad esempio io metto Matteo Pettaluga vediamo se c'è disponibile, matteopettaluga.blogspot.com Perfetto, questo qui sarà il titolo del mio blog, va bene? Ovviamente verifica se il tuo nome e cognome è disponibile oppure metti l'indirizzo che vuoi, va bene? Il cognome e nome, oppure un nome che ti piace a te di fantasia, il nome della tua azienda, quello che vuoi, va bene? Quindi diamo un indirizzo al nostro blog e poi scegliamo un tema per il nostro blog io lascio quello semplice, va bene? Poi ti farò vedere come modificarlo però giusto per creare il blog in un attimo metto quello più semplice e poi clicco su Crea Blog Va bene? Guarda un po', 3, 2, 1 e il nostro blog adesso comparirà già pronto per l'uso, d'accordo? Realmente se io vado qui su Nuovo Post, guarda, posso già andare a creare il mio post qui posso mettere il titolo, il mio primo post va bene? E qui posso scrivere quello che voglio, no? Ciao a tutti, questo è il mio primo post sul mio blog, va bene? Qui è carino perché puoi mettere, vedi, puoi evidenziare le scritte, metterle in corsivo, in grassetto puoi anche, andando qui, metterle più grandi, no? Puoi aggiungere delle foto, è veramente intuitivo qui ci sono le foto, vedi, inserisci l'immagine puoi scegli file, puoi andarla a prendere dal tuo computer, no? Tipo, non so, metto la foto della ruota della fortuna qua di tap, vedi? Ti puoi inserire le foto, puoi mettere anche la dimensione, vedi? Grande, extra, large, vedi? Io la metto media, qua qui, vedi, puoi mettere le dimensioni e poi clicchi su pubblica, boom, guarda qua ti chiede anche se vuoi condividerla su Google io adesso non la condivido perché tanto sto giocando e poi guarda, ho pubblicato il mio primo articolo che lo vedo qui il mio primo post, vedi? E poi clicco qui su visualizza blog, boom! Ed eccolo qui, guardalo che forte ecco qua il mio primo articolo sul mio primo blog, va bene? Quindi per svolgere le nostre azioni quotidiane su tap cosa dobbiamo fare? Basta andare qui su nuovo post inserire un titolo tipo il mio articolo mettiamo un titolo e poi dovremo andare qui su html e qui andremo ad incollare quello che ci esce su The Advert Platform quindi su The Advert Platform avremo un link che andiamo ad incollare qui mettendo html fatto questo poi andremo a pubblicare te lo farò vedere nel prossimo video e avremo svolto la nostra azione quotidiana adesso nel prossimo video ti faccio vedere come modificare un po' il tuo blog se vuoi cambiare qualche grafica se vuoi farlo più carino però realmente è tutto qui va bene? quindi il tuo compito a casa dopo questo video è vai su blogger.com fai accesso con il tuo account gmail se non hai un account gmail ti crei una casella di posta gmail entra dentro e crea subito il tuo blog nel prossimo video ti farò vedere come modificarlo come cambiare qualche grafica in modo che tu possa usarlo realmente come tuo blog personale anche per raggiungere delle cose e scrivere degli articoli se ti va e ci vediamo appunto nel prossimo video dove ti farò vedere tutto questo e anche come copiare e incollare i link all'interno del nostro blog ti mando un abbraccio grande e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video